ciao a tutti ragazzi qui c'è ancora un alzo oggi sono qui su minecraft dove andremo a fare cancella sta merda la diamond run con tanti bei punti esclamativi perché rende l'idea di qualcosa di figo da da moran la giochiamo senza trucchi creiamo un bel sì di tipo giuseppe simone così almeno potete andare a provarla anche voi sullo stesso mondo se volete vedere se battete il mio tempo farò partire un timer da quando inizierà qua e vediamo quanto tempo ci mettiamo trovare dei diamanti questa roba è molto utile perché devo dirvi un paio di cosette ed è abbastanza divertente ho visto gente farla quindi ok tempo partito che spawn di merda dal seed non mi aspettavo di meglio prove niente male comunque c'è che abbiamo subito il legno perché è importante e ho fatto partire il timer dicevo dicevo che ho fatto partire il timer rega questo episodio ho detto che vi darò un paio di cose ho detto che vi dirò vabbè è una di queste è che finalmente arriverà lo speciale per mille iscritti finalmente perché ho saltato dico finalmente perché dovevo farlo tipo un mese fa penso però per la forza di cose è stato un po ritardato ovvero il fattore che ci sarà un ospite che potete prevedere che sia jumpy tech forse non devo dirlo perché sarebbe stata una sorpresa allora facciamo 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 la war bench devo cambiare il cappellino natale perché ormai è passato e oltre al fatto di sarà jumpy tech che già è una cosa tutti wow che bello c'è jumpy tech farò anche un contest perché il vero speciale è il fatto che c'è un contest questo contest vi permetterà di vincere ho fatto la barca usiamola ok permetterà di vincere dei giochi penso che siano due o tre giochi tra cui minecraft e magari un gioco più sostanzioso tipo cod o così di qui di là vedrò poi e comunque penso siano tre giochi e magari qualcosa come hardware però vediamo vediamo è tutto da vedere però presto presto arriverà mi ci sbatto un po ci lavoro e arriva il big contest sarà una piccola serie video spero due tre boh vediamo di preciso e noi stiamo approdando a lampedusa bom rompiamo la barca e tanto non ci servirà più spero spero perché se anche qua c'è una grotta è una grotta sta roba che è c'è in giro del cibo a me preme trovare del cibo ci sono degli zombie in compenso che non mi preme trovarli per un cazzo proprio cibo cibo dove sei c'è una bella piscina in mezzo se vogliamo farci il bagno ma di cibo non ne vedo neanche l'ombra aia neanche un polletto niente questo è molto male questo è molto male perché anche se è una roba dobbiamo fare molto veloce la fame scende abbastanza in fretta e quindi moriremo se non troviamo del cibo ok vabbè niente ragazzi andata così andiamo giù c'è altro va giù sta roba perché di qua non va da nessuna parte di qua c'è del ferro e c'è uno zombo allora aspetta un attimo ci craftiamo il piccone di legno io vedo lo zombo che arriva e sono stronzo perché così mi chilla ok aspetta bastiamo un bel piccone di legno morici ma pezzo di merda ok e al mal che vada ci mangiamo la carne del zombo perché sarà l'unica nostra risorsa dopo di che ci prepariamo già a craftare un po di roba ovvero ci raccogliamo la pietra ci facciamo il piccone perché il piccone di legno veramente non se può usa non se può usa ok piccone di pietra ci raccogliamo questo ferro non so se lo vedete infatti adesso appena trovo il carbone faccio le torce perché sapete youtube smerda tutta l'università dei video che è male altro ferro carbone la 1.8 veramente si trova troppa roba anche nella mia serie dell'arcore che spero che state conseguendo sono state facendo vi muovete andate a vederla subito perché bellissima zombo dietro mamma mia i sensi di spider man proprio anche nella mia serie dicevo ne sto trovando un botto di materiale quindi penso nell'arcore 1.8 abbiano aumentato quanto ne spawn in giro non sono convintissimo di ciò che sto dicendo però potrebbe essere così ora vediamo raccogliere almeno il carbone un bel po per farci un bel po di torce e col ferro ci vorrei magari anche un'armatura visto che non abbiamo molta molto cibo ovvero non abbiamo proprio almeno abbiamo un pochino di difese un pochino ok facciamo la fornace subito subito sciubito sciubito proprio ci buttiamo il ferro e questo non tutto il carbone scemo se no con cosa le fai le cose le torcine voilà quando c'è questo ci fa luce per ora andiamo un po avanti e ristoriamo dell'altro ferro come se stiamo trovando zombie e zombie no buono e un creeper che è ancora meno buono fai boom perfetto ha fatto boom almeno abbiamo tolto le palle anche lo zombie insieme là c'è del ferro ma c'è anche un creeper tanto ferro però ne va la pena allora rischiare scoppia giù lì perfect bravo creeper collabori mi piaci non c'è nessuno vero ok cogliamo sta roba molto velocemente torniamo la sta venendo un po lenta come ram però siamo spawnati in un posto veramente di merda e senza neanche il cibo quindi scheletro star calmissimo calmissimo e senza neanche il cibo quindi siamo partiti un po svantaggiati un po tanto svantaggiati oddio scheletro non guardarmi eh non guardarmi minchiamo guardato minchiamo guardato ah dammi sta roba via ah grazie per la spinta via via fuggi 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 dietro qua mentre mangi la merda torcina ora la mia tattica sarebbe fare tanti bei picconi cioè tanti bei picconi almeno un paio di picconi e scendere abbastanza velocemente giù nelle profondità e trovare il diamante sperando di trovarlo il più fretta possibile ok abbiamo abbastanza carbone torniamo con la nostra roba 10 di ferro ne mettiamo altri 15 a sciogliere facciamo un pochino di torce ci serve altro regno non tutto magari così e ok la war bench in teoria si ci serve ancora che cazzo sto dicendo qua ci sta roba veloce qua ci ok facciamo un'altra un'altra forna cia la un'altra forna cia la metà metà ok l'unica cosa dobbiamo fare adesso aspettare un attimissimo proprio che venga fuori il ferro intanto andiamo a buttare un occhio a vedere se per caso è comparso un po di cibo perché senza cibo veramente non andiamo da nessunissima parte oddio ci andiamo ma con molta difficoltà moltissima difficoltà e no e non c'è proprio un cazzo qua giuseppe simone non mi devi farsi scherzi veramente che cazzo di seed è sta roba oddio non corre che moriamo ok siamo già quasi a 7 minuti a 7 minuti ragazzi siamo in alto mare vediamo quanto quanto riusciamo quanto riusciamo a fare creeper stai lì bravissimo così ci piaci così ci piaci altrimenti volevo anche chiedervi ragazzi se per caso siete interessati a vedere magari un paio di video di minecraft sul su server che è il server privato di jumpy ovvero ci giochiamo con un paio di amici e volevo chiedere se potete interessarvi avere qualche video qua sul canale visto che stiamo facendo un po di cose mi sembra divertente e magari vi può interessare quindi io chiedo quindi se vi piace voi mi dite di farlo io lo faccio siamo tutti contenti e gg tu hai finito di cuocere sì spacchiamole che ce le portiamo che non si sa mai ci finiamo di fare anche cosa potremmo fare le scarpine fanculo l'elmo è brutto da vedere l'elmo ci teniamo il cappellino babbo tatale ma che tenerello spacchiamo questo e andiamo a manettissima proprio a manettissima cazzo però la fame scende di brutto di brutto potremmo farci un secchiello d'acqua perché se ci sarà da passare nella lava potrebbe essere rischioso cazzarola questo non ci avevo pensato subito ci andiamo una corsa a prenderlo dai fammi dare una corsa a prendere l'acqua ragno di merda muori diciamo la mia torcia la mia torcia no creeper vai via stai lì stai lì un secondo boom la mia torcia ci tengo ok cuociamo very fast sto schifo e andiamo oddio tu perché mi guardi così male io ti voglio bene ciao spiderman ciao ciao dammi un bacino no che stella ti odio ti odio uno di ferro ti servirà anche la war bench iniziamo a metterla e e e e due di ferro molto bene andiamo ad acchiapparci quale acqua? c'è un polipo questa è acqua tutta rotta è acqua! perfetto non dobbiamo fare neanche strada che culo che culo ragazzi ok e raccontiamoci sempre tutto perché non si sa mai che ci potrà servire l'acqua ce la mettiamo abbastanza porco schifo cosa sto facendo? ce la mettiamo abbastanza vicino e da che parte scendiamo? di lì non mi piace però mi sa che è l'unica di qua qua dove si va? minchia di qua se scende raga andiamo a scendere a livello tipo e io voglio passare da dove sei terra ragna però dobbiamo scendere a livello tipo 12 o giù di lì sarebbe molto buono cazzo però di qua si sale quindi se ci tocca scendere da quell'altra per forza ah il cibo finisce eh ci tocca mangiare lo schifo una cacca di zombo ci tocca mangiare cacca di zombo che fa male ciao zombo ma sono tutti rincoglioniti i mob su sto coso ma che cazzo è? ok fammi mangiare un attimo tra l'altro di qua c'è una strada il che è buono ciao zombo ti aspetto ti aspetto alla tua fine qua e ci muori e ci muori ok proseguiamo fanculo fanculo quanti mob? oddio in che parte andiamo? da quella con i mob o da quella senza? tanto ormai sono tutte due senza buttiamo un occhio di là vedo luce lava 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 buono no ok qua è chiuso proviamo a vedere dall'altra parte la mia idea era quella di scendere con delle caverne per il più tempo possibile poi al massimo scavare un pochino che i diamanti si trovano verso il livello 12 così ed è chiuso anche di qua che livello siamo? siamo al livello 23 quindi io propongo di andare verso il giù a buttare un occhio perché si trovano dal 12 in giù se non sbaglio cioè io sempre saputo così se voi sapete in un altro modo me lo dite va bene va bene precisini precisini ci buttiamo si ok tutto sicuro di qua si scende ancora andiamo redstone qua oro altro non è male neanche come seed perché si alla fine si parte uh è lava che bello siamo siamo arrivati al livello 11 not bad buttiamo l'acqua per togliere sta cazzo di là ma vaffa è inculato l'acqua ah no ah scheletro tale babatto di uno scheletro dove andiamo da che parte esploriamo raga io non ne ho veramente idea proviamo ad andare verso qua a destra dai buttiamo giù l'acqua sempre per muoverci è una cosa veramente comoda questa di muoversi è un trucchetto semplicissimo che però diamante diamante madonna questa rank sembrava partita così male attenzione attenzione non è fabio a prendere il diamante l'altro uno due tre quattro cinque e sei diamanti non sono neanche pochi raga sei diamanti ce l'abbiamo fatto in ben 12 minuti e 22 secondi tipo una roba del genere spero che il video vi sia piaciuto come ho già detto aspettatevi lo speciale 1000 iscritti molto presto ovvero una settimana penso dipende dal jumpy tech quando si riprende perché poverino è tutto rotto è tutto rotto quel povero ragazzo hanno fatto male in fabbrica seguite la mia serie dell'arcore perché vedo che sto piacendo un sacco di gente quindi potrebbe piacere anche a voi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao